Sono Piero Monaco, faccio parte di Namirial e mi occupo del settore della gestione delle attività, quindi tutte le pratiche legate al testo unico, della parte della resistenza del fuoco e della parte della Fire Software Engineering. Cosa vediamo oggi in questo breve lasto di tempo? Faremo un'introduzione su quelle che sono le possibilità che ci offre l'ingegneria prestazionale, che assume un aspetto fondamentale perché nell'ottica della progettazione con il codice di prevenzione incendi, una delle possibili soluzioni alternative consiste proprio nell'applicazione della Fire Software Engineering. Soprattutto, ad esempio, mi viene in mente una possibile applicazione per quanto potrebbe essere la strategia S4, quindi la gestione dell'esodo, quindi per la verifica dei percorsi di esodo, lunghezze e così via, potrebbe essere rivolta alla verifica della distanza di separazione, quindi all'irraggiamento che arriva e con getto di piastre e piani radianti, può essere rivolta nella strategia S1 per la reazione al fuoco dei materiali e quindi eventualmente calcolare l'irraggiamento che arriva su quello che potrebbe essere un edificio storico, un albergo patrimonio dell'UNESCO e così via, sicuramente nella strategia S7 e S8, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio dei fumi e quindi l'evacuazione dei fumi all'interno della nostra attività. Cosa facciamo? Abbiamo costruito un CAD dedicato che è comune a tutti i nostri moduli di calcolo, che è un pre e post processore nei confronti del motore di calcolo FDS per lo sviluppo dell'incendio e di evac per la dinamica della simulazione dell'esodo, quindi del movimento delle persone che è un movimento che è influenzato dall'andamento dei prodotti della combustione all'interno del nostro ambiente, all'interno del nostro scenario di studio. Come funziona il programma? È abbastanza semplice, abbastanza schematizzato, partiamo da una piantina di riferimento a breve, entro qualche mese avremo invece direttamente la lettura dell'edificio da un file IFC, quindi avremo direttamente invece di fare in porta piantina, avremo in porta IFC e quindi andremo a ricostruire, a rigenerare automaticamente tutto il layout, lo scenario che vogliamo andare a studiare in automatico, a questo punto lanciamo il motore di calcolo e vedremo come è stata implementata una funzionalità grazie a una partnership con la possibilità di sviluppare il calcolo in cloud, quindi andiamo a sfruttare la potenza della rete configurando le nostre macchine in particolare, suddividendo il nostro scenario in tante griglie in modo proprio da poter sfruttare la potenza del calcolo in cloud, perché uno dei limiti del motore di calcolo FDS, ma in generale di tutti quelli che sono i motori di calcolo di fluidodinamica, è il fatto che andando a suddividere l'ambiente in griglia, tutti gli elementi vengono associatati alla griglia di calcolo e tanto più è fitta la griglia, tanto più è lungo il calcolo. Vediamo come si fa, ho aperto il programma, ho fatto un nuovo progetto FSE, me ne vado a caricare direttamente la mia piantina, faccio tasto destro, inserisci piantina, qui vedete già c'è il pulsante in porta piantina BIM, al momento è attivo per altri moduli, non è attivo per il modulo FSE, ma ci stiamo lavorando, vado a caricare la mia piantina, scusate poi è andata sull'altro monitor, ok, quindi la seleziono e quindi ho un riferimento, posso associare un nome al livello, il livello ce lo dobbiamo immaginare come i piani, come i layer in AutoCAD, quindi è un livello che io lo posso far assoggettare al piano, logicamente quindi piano terra, piano 1, piano 2 e così via, oppure è un contenitore di informazioni, ad esempio io potrei creare, questo vale soprattutto quando ho edifici molti piano, quello che potrebbe essere, non so, un albergo, quindi fare il livello piano terra, piano 1 e così via, ma anche andare a creare il livello rivelatore di fumo piano 1, rivelatore di fumo piano 2, perché quando andiamo a creare quelle che si definiscono le funzioni di controllo, cioè dare la possibilità al motore di calcolo di simulare la realtà nel modo, diciamo, più vicino possibile a quello che potrebbe accadere, ad esempio la rottura del vetro al raggiungimento di una determinata temperatura, o l'apertura degli evacuatori di fumo, o magari di una finestra verso l'esterno, attraverso l'attivazione del rivelatore di fumo, dobbiamo poi andare a selezionare degli elementi e quindi se li andiamo a classificare in layer è più facile poi la ricerca. Relativamente alla piantina ho la possibilità di attivare lo snap alle piantine e quindi potermi agganciare direttamente a quelle che sono gli oggetti inseriti dentro del mio disegno. Secondo passaggio è di andare a creare la griglia che andremo noi a calcolare, perché il motore di calcolo di fluidodinamica, ma in generale vale per tutti, calcola solo gli elementi che sono presenti all'interno della nostra griglia. Quindi me ne vado nella sezione FSE, quindi sotto il pannello FSE, io avrò la sezione di segno con tutti gli strumenti che mi consentono di andare a creare il layout. Chiaramente il layout sarà strettamente correlato allo scopo della mia simulazione, che può essere l'andamento, l'esodo e quindi la verifica di quello che il legislatore chiama reset, che calcolo attraverso la sezione M1 del codice, M2, e attraverso la simulazione determinano l'asset, quindi attraverso, ad esempio, per il codice ci dice la verifica R7, metodo semplificato, consiste nell'andare a studiare la temperatura degli strati alti del fumo, che non deve essere superiore a 200 gradi, e invece l'altezza libera dal fumo non deve essere inferiore a 2 metri. Quindi io andrò a mettere delle sonde virtuali in corrispondenza, ad esempio, a 50 cm dal soffitto della mia attività per studiare la temperatura del fumo, e una sonda che misura l'altezza del fumo a 2 metri di altezza. La condizione è che entro il tempo che io ho definito nel reset, comprensivo del margine di sicurezza, non ci deve essere fumo sotto i 2 metri e la temperatura non deve essere degli strati caldi, non deve essere superiore a 200 gradi. Quindi io creo il layout, lancio il calcolo, dopodiché post processore vado ad analizzare i risultati della nostra simulazione. Vedremo come possiamo andare a studiare e a sfruttare dei comandi che abbiamo proprio implementato per facilitare poi l'analisi dei risultati di calcolo, l'applicazione sicuramente di quello che è il giudizio esperto, perché qui assume ancora di più importanza. Quindi andiamo a disegnare la nostra griglia, quindi andiamo nella sezione gestione griglie e andiamo ad aggiungere semplicemente una nuova griglia, dopodiché faccio traccia al rettangolo e andrò a disegnare semplicemente un rettangolo che è un po' più grande della mia attività. A questo punto chiaramente mi vado ad aggiustare le coordinate per evitare di avere dei numeri con i decimali, non è un obbligo, però è un consiglio, nel senso che poi il motore di calcolo, diciamo essendo dei motori di calcolo sviluppati in, per dire il motore di calcolo sviluppato in Fortran, quindi in ambiente diciamo DOS, tra virgolette, è più conveniente lavorare con numeri interi rispetto al cifre decimali, ma il motore di calcolo diciamo lavora ugualmente. Quindi a questo punto cosa sto definendo? Sto definendo un ambiente, una griglia, che magari andiamo subito a visualizzare, che è un po' più grande quindi del mio ambiente. Questa mia griglia la dovrò suddividere in celle, perché immaginiamoci il cubo di Rubik, quindi in ogni cella io andrò a calcolare quelle che sono poi le informazioni. In questo momento io ho quindi una dimensione del calcolo che è di 69 metri per 25 per 8 metri di altezza, perché il mio edificio, il mio capannone, il mio magazzino, sto andando a studiare, è alto 6 metri, quindi io lascio poi un po' di spazio per poter vedere, non è un obbligo, ma se io poi voglio vedere il fumo ad esempio che esce dagli evacuatori di fumo, oppure dalle porte, oppure dalle finestre, devo necessariamente creare il dominio un po' più grande. Attraverso il pulsante ottimizza io vado a scegliere qual è la dimensione delle celle e poi vedremo magari in quante griglie poi voglio suddividere il mio calcolo, perché avendo la possibilità soprattutto di poter lanciare il calcolo, o se io ho una rete e quindi sulle macchine della mia rete, ho la possibilità di lanciare il calcolo in cloud dove io posso andare a utilizzare ad esempio 96 computer in parallelo e in contemporaneo, io posso suddividere il mio ambiente in 96 celle, quindi ho la potenza di 96 computer che stanno lavorando per me e quindi abbatto notevolmente a costi accessibilissimi il calcolo. Qui supponiamo di fare una cella molto grossolana di un metro e in ogni momento la posso andare a definire. Dopodiché l'altro passaggio è che di default per il motore di calcolo le dimensioni della griglia e quindi le pareti esterne del mio contenitore risultano essere piene, quindi io ho un cubo, una scatola, se io voglio simulare che all'esterno del mio edificio quando il fumo arriva alle pareti, al dominio di calcolo della griglia e voglio che continui all'infinito gli devo dire che queste sono di tipo open, quindi tranne il pavimento che identifico con il minima X, tutti e quattro i lati della mia griglia gli dico fammi scomparire praticamente le pareti laterali. Ho quindi fatto il secondo passaggio, quindi importata la piantina, definita la griglia. In ogni momento posso cambiare la griglia perché poi influenzerà esclusivamente il calcolo. Il terzo passaggio è iniziamo a creare proprio il contorno della mia attività, quindi dobbiamo andare a disegnare quelle che sono le pareti, quelle che sono le finestre e poi tutti gli elementi che mi aiuteranno o a descrivere lo scenario o a tirar fuori dei risultati. Andiamo ad esempio a disegnare un rettangolo che rappresenta il mio, quindi la mia attività. Andando a selezionare poi un oggetto e facendo tasto destro proprietà io ho la possibilità di poter conoscere le coordinate e quindi andare ad aggiustare e modificare manualmente le informazioni di disegno. Chiaramente lo posso fare anche attraverso gli strumenti, trascina, sposta, muovi e così via, quindi ho sia un input grafico per la modifica dell'entità sia un input data bella. Posso definire l'altezza della parete, lo spessore, la lunghezza chiaramente è calcolata ma se io voglio questa 70 metri automaticamente mi si viene allungata. Il tipo di materiale e poi altre informazioni che possono, che vanno a giocare su quella che è la visualizzazione. Ad esempio io gli dico mettimi una trasparenza di 0.3 perché magari io voglio renderla, quindi voglio vedere quello che poi potrebbe accadere all'interno della mia attività. Quindi ho semplicemente creato la mia parete, magari posso in linea di principio impostare l'altezza delle pareti che doveva essere 6 metri, ho dimenticato di cambiarla diciamo come parametro di default, ma posso in ogni momento andare nella tabella riepilogativa, fare tasto destro, cambia tutti i valori a 6 metri e automaticamente ho aggiornato le coordinate delle mie pareti. Secondo passaggio è che creiamo il solaio, quindi utilizzo lo strumento solido, vado a fare un rettangolo che corrisponde al mio solaio, tasto destro, termina per terminare il comando, a questo punto do delle informazioni sul solaio. Quindi vi vado a dire, guarda che, scusate ne ho selezionato due invece, devo selezionare solo il solaio. A leggere i marfi, il mouse si incanta. Quindi posso dire l'altezza del solaio, lo spessore è 0.20 e poi gli do eventualmente anche in questo caso, gli posso specificare la trasparenza, magari gli diamo un 0.5. Dopodiché vedremo le coordinate anche del solaio. A questo punto il secondo passaggio è andare a creare quelle che sono le aperture, quindi quelle che sono porte e finestre all'interno della mia attività, quindi me ne vado sotto il menu disegno aperture e ad esempio creo quella che è una finestra. Quindi me la vado semplicemente a fare inizio da qui e finisce da qui e automaticamente il programma mi ha creato una finestra. Scusate un attimo perché mi compare la finestra delle proprietà nell'altro monitor e la devo ricercare. Tabella finestra. Quindi gli dico che di default mi inizia a 90 cm dal pavimento ed è alto a 1,60 m, che sono le informazioni che mi ritrovo anche nel disegno e che posso andare a impostare nelle opzioni del progetto, quindi posso dare delle informazioni di carattere generale, quindi posso dire guarda che le pareti di default le voglio essere alte 6 metri, lo spessore delle pareti così via e da questa maschera, così già anticipiamo quello che poi sarà la novità che abbiamo introdotto, posso andare a impostare i parametri per quanto riguarda il calcolo del cloud. Quindi ho la possibilità di poter indicare quante macchine voglio andare ad utilizzare, quindi posso sfruttare fino a 224 macchine, quindi potrei io suddividere, chiaramente questo il numero di macchine è estremamente correlato alle dimensioni del progetto, non c'è un limite, io posso fare lo stesso progetto anche con una sola griglia se ho tempo, ma vi posso garantire che per progetti grossi e per griglie piccole normalmente tenete conto che le griglie si fanno tra i 20 e massimo i 50 cm, è estremamente correlato chiaramente alle dimensioni degli elementi che ho all'interno della mia attività, magari potrei fare una griglia più fitta nella zona dove nasce l'incendio e poi man mano fare delle griglie più grandi, però io in questo momento potrei suddividere il mio calcolo in 224 pezzi, quindi avere 224 computer che lavorano per me, noi ne faremo magari 4. Vado a scegliere la potenza della CPU, quindi se voglio una macchina un po' più potente o più memoria, e poi la versione del motore di calcolo che la vado a scegliere anche attraverso questa maschera, quindi ho la possibilità, in questo momento l'ultima versione che è presente, che è scaricabile dal NIST è la 6.7.0, avevano rilasciato nel mese di agosto la versione beta della versione 7, ma poi l'hanno ritirata perché in questo momento hanno tanti problemi di convergenza del calcolo. Per quanto riguarda quindi il calcolo in cloud, io da questa finestra andrò a definire quante macchine voglio utilizzare e quanta potenza o quanta memoria deve avere ogni singola macchina. A questo punto ho disegnato diciamo un elemento, io posso andare a fare copia e incolla dello stesso, oppure il comando è abbastanza, quindi faccio inizio fine, vado a ripetere l'inserimento. Di default per il motore di calcolo queste aperture, che sono le finestre, o quella che qua potrebbe essere la porta, quindi che vado a definire in questo modo, è sempre lo stesso oggetto, l'unica cosa che cambia è semplicemente che la porta inizia a quota minima Z uguale a 0, la finestra inizia a quota minima quella che io ho dato, quindi vado a semplicemente a cambiare quelle che sono nei vertici, quota minima 0, ma se io questa che ho chiamato porta ma la volesse fare invece di diventare una finestra, basta che gli dico guarda che invece di iniziare a un metro e venti e arriva ed è alta 40 centimetri, ho creato un'apertura ad una certa quota. Quindi andiamo semplicemente a creare e a giocare su quello che è il nostro scenario. Quindi più lo vado a disegnare, più riesco e chiaramente posso andare a creare dei layout anche complessi, perciò degli strumenti che mi consentono di creare pareti inclinate, quindi se io ho ad esempio se il tetto del mio capannone è un tetto a scidi io li vado a disegnare, oppure un tetto a due falte, potrei avere un tetto che ha una volta, oppure voglio simulare l'incendio all'interno di una galleria, la possibilità attraverso lo strumento triangolo di andare a coprire aree di qualunque forma e in qualunque posizione nello spazio, mi ricordo che il problema del triangolo è un problema abbastanza complesso dal punto di vista geometrico perché io l'ho chiamato quando l'abbiamo studiato il problema del formaggino e formaggino in vernizi perché ogni angolo può avere una coordinata x, y, z nello spazio è differente, quindi andare poi a trovare quelle che sono le celle in cui ricade l'oggetto che vado a disegnare dal punto di vista matematico è stato abbastanza complesso. La possibilità di poter inserire un oggetto predefinito, quindi un oggetto di cui io ho la curva tempo HRR, ad esempio se prendiamo come riferimento la RTV numero 6, il codice mi ha dato, guarda, che le macchine bruciano con questa potenza termica, non solo, io ti definisco uno scenario e ti dico che la prima macchina brucia o il veicolo commerciale, le altre macchine bruceranno dopo 12 minuti, poi 24, ogni 12 minuti e poi 36, ad esempio, nello scenario S2B. L'altra cosa che possiamo fare, se io volessi simulare ad esempio la rottura del vetro e quindi voglio che questa finestra di default non sia aperta ma sia chiusa e si apra alla rottura, al raggiungimento di una determinata temperatura, quello che dobbiamo fare semplicemente è andare nella sezione dispositivi, a mettere una sonda virtuale che si chiama rivelatore di calore, andare a posizionarla in corrispondenza del mio elemento strutturale, poi la andiamo ora a collegare in archivio a una sonda, alla temperatura che vogliamo e andiamo poi a creare una funzione di controllo che è collegata a questo oggetto. Quindi andremo a dire al motore di calcolo, guarda che la finestra X001 è chiusa all'avvio della simulazione, ti ho messo una sonda virtuale in corrispondenza del vetro della finestra, ipotizzo che il vetro della finestra si rompa al raggiungimento dei 200 gradi, sto dicendo dei numeri chiaramente, a questo punto attraverso la funzione di controllo il motore di calcolo legge la temperatura di questo oggetto nel momento in cui supera i 200 gradi simula la rottura del vetro, quindi il fumo andrà a fuoriuscire da questa finestra. Per fare questo dovremo poi andare a creare una funzione di controllo, quindi andremo a fare aggiungi una nuova funzione di controllo, la collegherò al rivelatore di calore, magari la chiamo finestra 001, gli dico chiudi, conferma. A questo punto l'ultimo passaggio è nella finestra andare a dire guarda la dobbiamo collegare a questa funzione di controllo e gli dico accetta. Che cosa cambia rispetto a queste altre finestre? Queste all'avvio della simulazione saranno aperte, queste all'avvio della simulazione saranno chiuse e si aprirà se e solo se questa sonda rivelerà la temperatura che poi vedremo come si va ad impostare. Andiamo ad aggiustare la quota del solaio. Vi dico che la quota minima è 6 metri e l'altezza è 0,2 e gli dico accetta. Se io in questo momento magari salvo il progetto e voglio vedere che cosa ho fatto fino a questo momento, il motore di calcolo mi consente in maniera veloce di poter vedere la geometria in tempo rapido senza lanciare la simulazione che potrebbe essere anche un processo a volte anche oneroso perché ripeto se il dominio è molto grande, l'avvio e il calcolo della simulazione può richiedere molto tempo. Quando parlo di molto tempo parlo di una settimana o di due settimane di calcolo nelle macchine di uso comune. Una volta abbiamo fatto una simulazione doveva essere un calcolo per 30 minuti sulla mia macchina che ha quattro core, quindi quattro processori, il calcolo della simulazione lanciata la sera al mattino, ancora aveva fatto un secondo della simulazione, i 30 minuti li abbiamo fatti con una settimana di calcolo su 18 macchine, notte e giorno diciamo, e durante il giorno i colleghi lavoravano su quelle macchine, quindi alla fine se ho tante griglie la quantità di memoria o comunque di prestazione della macchina non è così importante. Non so perché non si sta salvando, questa è la legge di Murphy. Scusate ma mi si è faccio vedere il progetto che già avevo fatto prima di iniziare questa diretta quindi diciamo ora il passaggio successivo qual è? Definito il layout è semplicemente quindi andando a creare le pareti, il solaio, l'eventuale evacuatore di fumo e l'esposizionamento di eventuali rivelatore di fumo e quindi la funzione di controllo che comanda l'apertura degli FC e così via quello che andiamo a fare è definire la durata della simulazione e nel caso in cui noi quindi è lo stesso progetto però già completo, tanto per capirci quindi cosa ho fatto? Ho definito le finestre, ho messo in questa zona un bruciatore quindi per me questa è l'origine dell'incendio. Se io devo fare la verifica della strategia S4 dell'esodo, ma questo potrebbe anche essere un progetto che non va nell'applicazione del codice ma io vado in deroga ad esempio per un locale di pubblico spettacolo e quindi sto utilizzando lo strumento della deroga andiamo a definire quello che è il reset e quindi quello che noi andiamo a definire come obiettivo quindi vado a definire ad esempio un obiettivo in questo caso ad esempio io ho detto guarda che il mio reset l'reset ricordiamoci il codice ci dice che è calcolato come è calcolato attraverso il tempo di detection ovvero l'istante in cui ci accorgiamo dell'incendio poi c'è il tempo di allarme che può essere impostato a zero se ad esempio la detection la facciamo con l'impianto di rivelazione fumi se l'impianto di rivelazione fumi è collegato all'impianto di allarme il tempo di allarme pare a zero poi c'è il tempo di pre-movement ovvero il tempo che io impiego da quando sono consapevole che è scattato l'allarme a quando mi metto in movimento immaginiamoci che sono sotto la doccia in albergo scatta l'allarme e io perdo un po' di tempo perché magari un attimo devo uscire dalla doccia mettere l'accappatoio mettermi magari qualcosa oppure dire ma è effettivamente un pericolo e così via e poi c'è il tempo effettivo di movimento poi c'è un certo delta di sicurezza abbiamo definito un numero lo andiamo a scrivere in questa casellina qua a questo punto decidiamo questo numero come lo vogliamo andare a verificare vogliamo fare il calcolo la verifica del reset con metodo semplificato il codice ci dice la temperatura non deve superare i 200 gradi l'altezza libera dal fumo sotto i 2 metri poi io normalmente posso mettere vado a mettere la visibilità posso se voglio aggiungere all'irraggiamento i prodotti della combustione e quindi eventualmente andare a fare la verifica diciamo completa nel codice quindi ho definito i miei obiettivi ne posso creare chiaramente quanto ne voglio a questo punto quello che posso fare diciamo è della funzionalità che abbiamo introdotto per facilitare poi lo studio a posteriore dei risultati della simulazione è quella di andare a mettere sotto la sezione sonde che contiene tutto l'elenco degli oggetti specifici che ci consentono di tirar fuori dei dati dalla simulazione può essere una termocoppia quindi per determinare la temperatura e quindi la curva naturale dell'incendio nelle corrispondenze di un elemento strutturale può essere un dispositivo di misura in cui io vado a leggere determinate condizioni che può essere la visibilità, il raggiamento, la temperatura e la velocità in un punto oppure se io voglio studiare proprio la strategia l'esodo e quindi la verifica dell'R7 posso semplicemente andare a dire percorso dispositivi lo posso semplicemente andare a collegare al mio obiettivo automaticamente il programma mi dice guarda che l'obiettivo numero 1 è basato sullo studio della temperatura e il valore di 200 gradi a che altezza? abbiamo detto che le nostre pareti sono alte 6 metri quindi se c'è il solaio quindi io magari la studio a 5 metri e 50 l'israggiamento magari lo studio a 1 metro e 50 la visibilità e l'altezza libera l'altezza libera del fumo non deve scendere sotto i 2 metri la visibilità è per facilitare quello che può essere il giudizio esperto perché io metto una sonda virtuale la sonda virtuale mi legge un determinato parametro di 3.24 se in quel punto il motore di calcolo determina 3.26 e poi ritorna a 3.20 mi dice attenzione lì la sonda non funziona più a questo punto il giudizio esperto è o andare a vedere nel tempo se il valore di allarme è superato per tanto tempo oppure andare a dire guarda che c'è anche una sonda nello stesso punto che mi legge la visibilità ma se la visibilità ad esempio è sempre di 10 metri o è sempre di 30 metri quello è il valore che io ho definito nell'obiettivo anche se la sonda di fumo mi ha rilevato una minima presenza di fumo può essere perché si è aperta la porta e quindi c'è avuto una variazione di pressione e quindi in generale una turbolenza e quindi per un istante la sonda ha superato il valore di controllo e poi diciamo è ritornata positiva giudizio esperto è ancora valida a questo punto dico semplicemente traccia percorso non faccio altro che andare a disegnare quelle che sono le vie di esodo all'interno della mia attività tasto destro termina in maniera automatica lungo il percorso che io ho tracciato il programma con lo step che avevo impostato che è di 2 metri mi va a disegnare tante sonde in base all'obiettivo che io ho scelto quindi avrò qui per ognuno di questi puntini avrò una sonda revelatore di fumo una sonda di visibilità a 2 metri di altezza una sonda di raggiamento a 1,50 m e una sonda per reggere la temperatura nel codice certo possiamo inserire rispondo alla domanda della chat se io voglio simulare una trave o un elemento esporgente io basta che vado ad esempio a disegnare questa parete tasto destro termina gli cambio la quota e la faccio diventare ad esempio vertice 1 e va da 5 metri a 50 ed è alta 50 cm quindi sto disegnando un elemento che dal tetto scende di 50 cm se voglio disegnare un pilastro mi creo un oggetto o pilastro tasto destro termina e ho costruito il mio elemento per quanto riguarda sto leggendo le domande per quanto riguarda è chiaramente la parte ora più complessa è definire che cosa nello scenario dove nasce l'incendio e come si sviluppa l'incendio la metodologia migliore per fare lavorare il motore di calcolo è quella di fornire la potenza termica dell'incendio quindi direttamente la curva a tempo HRR viceversa è come vado a definire il carico di incendio abbiamo diciamo un abbiamo una possibilità che come ci dice il codice creare creare la curva teorica dell'incendio che sarebbe lo scenario peggiore quindi attraverso la definizione in archivio di tutti quelli che sono le informazioni del che poi verranno ad essere utilizzate e quindi le sonde le caratteristiche della sonda rivelatore di fumo le caratteristiche dell'oggetto rivelatore di calore la superficie e quindi l'origine del bruciatore o un materiale che può essere il legno come può essere la carta quindi che andiamo a diciamo andiamo a caratterizzare oppure ho la possibilità di andarmi a costruire quella che è la proprio la curva teorica dell'incendio quindi mi definisco le superfici in pianta lo sviluppo delle superfici quindi pavimento soffitto e pareti l'elenco di tutte le aperture a questo punto mi vado a rappresentare quello che è la curva di crescita il valore del carico di incendio specifico e automaticamente ho costruito la curva teorica dell'incendio quindi questa è la massima curva che si può sviluppare all'interno dell'ambiente perché stiamo andando ad ipotizzare che tutte le aperture sono quindi tutta la ventilazione che io ho risulta essere fluidibile quello che noi abbiamo è qua i tempi tempi di fine sviluppo inizio decadimento fine incendio HRR massimo che si può andare a sviluppare quindi qua ho 60 megawatt di potenza massima quindi questo io potrei disegnare e utilizzare questo come oggetto oppure mi vado a definire un bruciatore il codice nella sezione M mi dice il focolaio predefinito mi differenzia il fatto che io ho a che fare con attività civile o attività industriale mi dà il focolaio predefinito da 500 a 1000 kilowatt su un metro quadro e quindi io semplicemente vado a fare tasto testo inserisce una nuova superficie che chiamo ad esempio innesco da codice gli dico ok gli dico guarda che questo oggetto quindi l'origine dell'incendio è una curva di tipo alfa t quadro è una curva di crescita ultra fast quindi a 75 secondi e a un picco di 1000 kilowatt su un metro quadro quindi ho definito che l'origine e lo sviluppo dell'incendio è la curva ultra fast da codice per qualunque diciamo edificio a questo punto non mi rimane altro che poi andare a disegnare una superficie o un oggetto e andare a dare queste caratteristiche se invece io mi voglio costruire i miei materiali e quindi fare tasto destro mi importa magari vediamo un attimo se ho già un qualcosa di già fatto quindi mi sono costruito una superficie che è il materiale del divano che brucia che è costituito da due strati uno di 10 centimetri che è costituito dalla gomma piuma dal polistirolo e uno di 2 millimetri che è il tessuto devo andare a conoscere quelle che sono le caratteristiche di trasmissione dei materiali dei singoli materiali quindi la densità il calore specifico la conduttività termica il calore il potere calorifico e anche la parte più diciamo interessante che risulta essere poi il calore di reazione e soprattutto quella che io chiamo la temperatura di riferimento ovvero la temperatura nel momento in cui l'oggetto inizia la fase di pirolisi ovvero incomincia a rilasciare i prodotti della combustione e quindi eventualmente a bruciare poi ad esempio abbiamo la sezione degli agenti in cui io ad esempio mi sono definito un mio agente che ha un tempo di preevacuazione di 10 secondi ma anche un tempo di rivelazione dell'incendio di 30 secondi quindi invece di partire immediatamente allo start dell'incendio passeranno diciamo 40 secondi prima che questo mino si andrà a muovere se invece poi voglio quindi diciamo determinare definito l'oggetto polistirolo con la quantità effettiva di materiale io disegnerò un volume a cui associerò questo materiale che ha una certa densità ha un certo spessore mi calcolo il totale di chili che corrispondono a questo materiale però in questo caso le proprietà poi le caratteristiche chimico-fisiche del materiale che vado ad inserire devo citare da dove sono state prese perché diciamo è la parte più complessa di questo tipo di materiale per quanto riguarda la domanda che se possiamo simulare le cupole ho già risposto abbiamo lo strumento volta o eventualmente visto che in ogni caso andremo poi a discretizzare con i cubetti attraverso lo strumento triangolo e attraverso sicuramente poi una discretizzazione della griglia molto fitta per evitare gli effetti della turbolenza qui ho possibilità di definire i parametri degli sprinkler dei rivelatori di fumo rivelatori di calore e così via quindi attraverso questa maschera noi possiamo fare possiamo definire tutte quelle che sono le impostazioni che vengono poi che vengono poi utilizzate dentro il programma mentre cerco di leggere le domande così vi rispondo al volo definito diciamo il contorno poi risponderò alla fine alla domanda che è stata posta sull'intera struttura per quanto riguarda quindi il nostro scenario quindi definito il contorno l'origine che brucia quindi io mi sono creato l'oggetto e gli ho detto bruciatore 500 oppure il mio innesco da codice accetta mi vado nella sezione parametri della simulazione e vado a fornire tutte quelle che sono in prima battuta la durata dell'incendio noi abbiamo definito un R7 di 240 secondi quindi il calcolo deve durare almeno 240 secondi quindi in questo caso invece ho ipotizzato 5 minuti di simulazione poi ci sono tanti altri parametri che sono i parametri di default del motore di calcolo il motore di calcolo e in generale nel codice viene riportato il fatto è che il motore di calcolo è validato con questi parametri di default ad esempio la temperatura ambiente è 20 gradi quindi non c'è motivo di cambiarlo a meno che io non sto facendo una volta l'abbiamo fatta in Valle d'Aosta sul Monte Bianco la funivia del Monte Bianco la temperatura era di 0 gradi e quindi abbiamo cambiato lo 0 gradi oppure una volta abbiamo fatto una simulazione per un magazzino intensivo a una cella frigo della Parmalat a 4 gradi e la temperatura ambiente l'abbiamo cambiata a 4 gradi la pressione ambientale è questa e questa non la modifico quindi modifico tutte le informazioni che cambiano rispetto al default e il default è quello che vedete rappresentato al video io vi posso dire nella mia esperienza di simulazione che non ho mai cambiato se non pochissime volte queste informazioni poi qui ci sono per gestire gli output ogni quanto tempo lasciarle liberi a questo punto nel momento in cui io ho definito tutto il layout ho definito in questa zona che vedete qui la tipologia quindi un'area in cui sono presenti delle persone ed in particolare ho classificato 40 persone con il ruolo di adulti hanno cioè non c'è differenza tra uomo e donna quello che cambia tra uomo e donna in generale a parte le dimensioni del corpo sono la velocità di movimento abbiamo una 20 persone con un ritardo di 30 secondi e altre 20 persone con un ritardo di 30 secondi ma con una velocità di movimento più lenta questo un po' per simulare quello che potrebbe essere la signora col passeggino oppure quindi diciamo in generale attraverso queste informazioni posso cercare di giostrare su quelle che sono le informazioni e quindi la tipologia di persone presenti all'interno degli ambienti qui posso specificare e indico quella che è l'uscita di sicurezza e a questo punto diciamo ho la possibilità di lanciare il calcolo il calcolo può avvenire in locale o in locale su diciamo sfruttando la rete locale oppure in cloud e può essere un calcolo che può riguardare solo l'incendio può essere un calcolo di sola evacuazione perché io potrei simulare ad esempio l'esodo la prova terremoto l'allarme bomba all'interno di una scuola di un centro commerciale e così via quindi andare a studiare in base agli ostacoli che sono presenti all'interno della mia attività quelle che possono essere la scelta e la visibilità delle uscite di sicurezza o i tempi effettivi di esodo perché quando l'omino cammina terrà conto degli ostacoli che sono lungo il percorso di esodo per raggiungere l'uscita di sicurezza se poi c'è anche il calcolo FDS più EVAC il movimento delle persone sarà ostacolato anche dalla presenza di fumo non solo posso indicare che un'uscita di sicurezza potrebbe non essere agibile dopo un tot di tempo o se l'incendio nasce nelle vicinanze dell'uscita di sicurezza e questa non è visibile non è agibile l'omino ne va a cercare un'altra quindi diciamo che per quanto riguarda la codifica di quella che è quello che potrebbe accadere all'interno della diciamo dell'ambiente abbiamo a che fare diciamo possiamo fare tutto cosa possiamo fare quando io definisco quest'area quindi quando io vado a dire guarda che in questa area sono presenti delle persone tasto destro termina io diciamo in quest'area gli posso dire che un'area di 8 metri quadri gli posso dire ci sono 5 persone non posso dire esattamente dove sono posizionate ovvero che so in questo punto in questo punto e così via perché il software li calcola in maniera casuale se io volessi simulare n persone sedute una accanto all'altro dovrei creare tanti riquadri pari alla dimensione ad esempio di una sedia e mettere una sola persona ma questo cambia poco perché all'avvio della simulazione il software distribuisce in questa area in maniera casuale le persone e poi lo ripeto due o tre volte e prendo il valore medio e questo diciamo la la prassi vediamo se mi sembra di aver scorto la domanda è sempre sull'auditore fatto questo non faccio altro che lanciare il calcolo quindi io me ne vado a fare lancia calcolo ho definito in questo momento una sola griglia ma se io voglio sfruttare il calcolo in cloud cosa faccio e ora poi vi faccio vedere il progetto che ho già calcolato prima quindi all'inizio ho solo una griglia quindi la mia griglia di incendio gli dico la voglio ottimizzare la voglio suddividere ad esempio in quattro pezzi quindi la voglio tagliare a croci quindi due lungo l'asse delle X quindi a metà dell'asse delle X a metà dell'asse delle Y e automaticamente il programma in automatico mi ha suddivido la mia la mia griglia in quattro pezzi questo mi consente di poter o sfruttare i quattro processori della della mia griglia oppure andare a sfruttare i quattro calcoli che io diciamo in cloud che io ho definito in in cloud il calcolo in cloud gestisce anche il calcolo su multigriglia vi faccio vedere il calcolo che avevo lanciato in precedenza vi faccio vedere il come si fa progetto aula in cloud puoi salvare il icono quindi ho completato io il mio progetto che cosa faccio a questo punto posso lanciare il calcolo in locale oppure andare a dire al programma nel caso di calcolo in cloud io dovrò avere una griglia solo che comprende tutta l'attività per l'esodo e n griglie per il calcolo dell'incendio quindi se io voglio lanciare il calcolo in cloud attraverso il quindi che può essere solo incendio solo esodo o incendio più esodo vado a scegliere calcolo in cloud che cosa succede andiamo andando a indagare il pannello di controllo del calcolo in cloud cioè il riepilogo dei calcoli che io ho fatto quindi mi sto mi sto collegando al piattaforma cloud ho qui il fatto ho qui diciamo il progetto che è in cloud mi dice che il calcolo è partito alle 11.48 ed è finito alle 11.55 sulle quattro macchine posso qui a questo punto diciamo avere un interrompere o vedere lo stato della diciamo l'andamento del calcolo del cloud quindi attraverso questa maschera andare a vedere lo sviluppo della simulazione nel momento in cui ho finito automaticamente mi arriva un'email dal pannello di controllo che mi avverte quindi diciamo il vantaggio è anche di non sfruttare di poter continuare a lavorare sulla mia macchina di poter se voglio fare un'altra simulazione la salvo con nome e rilancio un nuovo calcolo in cloud perché verranno create altre 228 macchine che sono al mio servizio nel momento in cui invece voglio andare a scaricare quindi i risultati me ne vado nella maschera scarica risultati dal cloud quindi apre il mio progetto vuole che lo lanci perché l'ho cancellato quindi faccio calcolo in cloud il numero di progettori scusatemi un secondo perché ho sbagliato devo avere 4 griglie non 5 quindi le griglie sono a multipli di 4 quindi lo facciamo in questo modo elimina duplica ottimizza dividi in 3 ok e questo è una griglia di incendio salvo e chiudi quindi strumenti calcolo in cloud lancia calcolo sì mi sono incartato devo lanciare calcolo fds più più evac per avere le 4 griglie però va bene non questo calcolo in cloud quindi mi sto collegando alla piattaforma cloud ho queste griglie gli dico avanti gli dico tasto destro carica file fds quindi il file del progetto quindi lo sto trasferendo ora sulla piattaforma cloud a questo punto gli dico tasto destro avvia simulazione quindi sto avviando la simulazione sul cloud faccio avvia simulazione lui mi dice guarda che già è presente una simulazione all'interno della cartella che vuoi fare la vuoi rilanciare la vuoi ricreare o meno chiaramente sono tutti dei warning gli dico no però partirebbe il calcolo in cloud e poi nella sezione risultati gli dico scarica i risultati dal cloud nel momento in cui mi arriva l'email o vado a monitorare dal pannello che lo lascia attivo che il cloud quindi è stato calcolato me li vado al giornalista vediamo se me la trova sì ora perché lui quando la predispongo me le va a cancellare me le vado a scaricare manualmente dal dal mio pannello di controllo e quindi ho il calcolo in locale ma effettuato sfruttando la potenza della macchina mi arriva una email e vi faccio ora vedere di questo tipo la tua simulazione è terminata questo è il progetto data di avvio data di arresto e poi se voglio posso andare a vedere un report con tutti i dati a questo punto la posso andare a scaricare quindi diciamo che o mi lancio il calcolo in locale quindi calcolo fds più eva in locale e quindi se magari il progetto è piccolino oppure il mio il mio calcolo ho la possibilità di poter sfruttare tanti computer in rete ma vi posso garantire che non c'è paragone dalle esperienze che abbiamo fatto tra il calcolo in rete anche il calcolo multiprocessore sulla mia macchina io lancio il calcolo dico il progetto corrente e lo vado a a determinare a calcolare con il limite lanciato sulla macchina che questa macchina in questo momento non ci posso lavorare perché è impegnata diciamo nel calcolo le risorse sono al massimo quindi devo stare attento a non riavviarla non bloccarla e così via calcolo in cloud è indipendente io posso lanciare il calcolo spegnere e riprenderlo dopo due giorni è uno strumento diciamo molto molto potente perché abbatte di molto i tempi della simulazione allora un attimo che ora vediamo di rispondere che sto vedendo che ci sono delle domande no allora la domanda è che se ho lanciato un calcolo in cloud o anche in locale sulla solo con le griglie di incendio diciamo viene ignorata la griglia di esodo analogamente se è una griglia la domanda è io nelle opzioni della griglia ho la possibilità di poter scegliere se è una griglia è una una griglia di esodo e quindi una griglia di evacuazione se è anche contemporaneamente una griglia di incendio e se voglio che venga scritta su file fds quando io lancio o anche io posso anche inserire tutte le griglie anche come griglie di evacuazione però se lancio il calcolo del solo incendio verranno utilizzate solo quelle con indicato fds anche se c'è scritto evac vediamo che vi faccio se riesco a caricare una versione che avevo fatto il progetto locale se riprende il progetto così vi faccio vedere il movimento delle persone e poi se c'è ancora qualche altra domanda la macchina non deve rimanere accesa quindi quando lanciate il calcolo in cloud io posso spegnere la potenza è questa perché io sto sfruttando la potenza della rete quindi dopo di che me ne vado e si è finito lì quando poi mi arriva l'email o dalla maschera pannello cloud vedo lo stato di avanzamento della simulazione vado a come dire vado a a scaricare tutti i file quindi intanto qua la simulazione per dire la chiudo perché non ha non mi interessa vi faccio vedere ora il risultato del calcolo incendio più esodo nella speranza di non averlo cancellato qui nel menu strumenti risultati apri MokeView scusate ci andiamo al contrario perché così vede direttamente qual è progetto aula ho cancellato ok quindi questo è il risultato di questa simulazione in cui ho messo anche gli evacuatori di fumo ho messo tutte le finestre ho messo la zona dove nasce l'incendio ho messo gli omini quindi vado a caricare i prodotti della combustione in questo caso il fumo ma vado anche a caricare le persone le persone che ho inserito all'interno della simulazione questa è la conclusione del calcolo che avevo lanciato in cloud e che volevo scaricare quindi posso vedere anche gli omini gli ho dato dei colori diversi in base a quello che era show human colorati quindi le persone si muovono nelle direzioni delle uscite di sicurezza che sono una due ai lati contrapposti e due in questa posizione magari se tolgo il fumo lo vediamo meglio quindi l'incendio nasce dopo un tot di tempo che io ho deciso le persone si muovono e vanno nelle in corrispondenza delle uscite di sicurezza che a queste che se vedete ce ne sono alcune che si trovano in questa posizione ma magari che hanno più vicino questa uscita di sicurezza però io ho voluto simulare il fatto quello che è scritto nelle norme che il 30% normalmente delle persone ritornano indietro facendo lo stesso percorso che hanno fatto per arrivare in quel punto quindi queste persone conoscono questa uscita di sicurezza e io gli sto dicendo che loro devono andare a raggiungere esattamente se è fruibile chiaramente questa uscita di sicurezza pur avendone una più vicina quindi in generale il motore di calcolo risulta essere abbastanza diciamo flessibile vediamo un attimo se riesco a scaricare i file dal cloud e poi se c'è ancora qualche domanda vi rispondo e poi non per purtroppo con poco tempo però vi ho dato una infarinata quindi vediamo strumenti strumenti risultati scarica risultati dal cloud quindi il calcolo è completo me ne vado qui questi sono i file che sono sul cloud perché se io vado a prendere la cartella in locale è vuota infatti non potevo poco fa non riuscivo a per quanto riguarda c'è una domanda che dice ad oggi con la circolare di luglio del 2020 non è possibile lo diceva anche prima il codice utilizzare la curva naturale dell'incendio per il calcolo del singolo elemento per il problema di tener conto delle deformazioni occorre considerare l'intera struttura noi stiamo lavorando per fare le verifiche di resistenza al fuoco sull'intero sull'intera struttura è un progetto vi posso garantire molto complesso ma abbiamo già iniziato a svilupparlo e sicuramente sarà un grandissimo sviluppo nel settore dell'antincendio lo diciamo sarà pronto sarà pronto diciamo speriamo speriamo la fine dei primi mesi la fine diciamo più o meno settembre ottobre vediamo fine dell'anno vediamo perché poi ci sono delle problematiche dal punto di vista logico molto complesso dal punto di vista di computazionale anche abbastanza lunghe perché l'intera struttura è abbastanza onerosa però diciamo abbiamo iniziato lo sviluppo quindi io posso selezionare i miei elementi fare tasto destro download oppure download di tutti i file nel momento in cui io li scaricate me li mi trovo e calcolo quindi sulla mia macchina a questo punto lo posso andare a diciamo poi a visualizzare con lo smoke review quindi il visualizzatore dei risultati oppure poi attraverso la magari potrei farvi vedere i file csv semplicemente uno due uno due tre quattro tappate dei file selezionati i file csv sono i risultati della dell'elaborazione numerica quindi vediamo se li ha scaricati tutti perfetto aspettiamo che finisce download degli altri file quindi qui c'è una comunicazione nativa con il cloud e quindi nel momento in cui ho scaricato i i file diciamo li vado vado a visualizzare magari ci accontentiamo di quelle che aspettiamo ormai perché ho sforato diciamo i tempi a disposizione quindi non so se i colleghi mi dicono che posso ancora andare avanti per qualche minuto ok quindi faccio chiudo vi dico sì questo punto se me ne vado a vedere quindi invece di visualizzare i risultati della simulazione vediamo se non mi da problemi avendo i file essendo parziali ragiono sui numeri quindi ho le informazioni legate alla visibilità quindi ricordiamoci le l'informazione sulla temperatura dei gas non deve essere superiore ai 200 gradi quindi se le vado a vedere tutti non supero mai i 200 gradi il fumo la visibilità ad esempio se le vado a vedere per tutte le sonde non scende mai sotto i 13 metri quindi ho una visibilità che è sempre ottima lungo i percorsi per quanto riguarda l'esodo delle persone io per ogni uscita di sicurezza ho quante persone arrivano e quante persone escono diciamo ho anche il numero dei morti quando la quantità di fed è superiore a 0,3 per il motore di calcolo risulta essere diciamo l'omino non più in grado diciamo e raggiunge diciamo la morte dopodiché creo la relazione e così via ho anche la possibilità e poi concludo visualizzo obiettivi valori soglia attraverso questa maschera aiutiamo avendo disegnato i percorsi di esodo abbiamo la possibilità di conoscere in tempo reale poi ne ho inserite altre se l'obiettivo se l'obiettivo è diciamo verificato oppure no quindi ho la possibilità di conoscere il momento in cui il tempo di R diciamo ad esempio in questo momento per il percorso numero 4 che è quello diciamo vicinissimo all'incendio avevo determinato un tempo di R7 di 240 secondi però già a 40 secondi lì c'è del fumo quindi in questo caso devo andare a determinare esattamente dove si trova la sonda numero 101 e capire che cosa è successo quindi ho degli strumenti che mi consentono di poter definire e quindi diciamo stabilire la verifica di quella che era la mia soluzione alternativa rispetto alla soluzione conforme oppure una deroga nelle attività con la possibilità del calcolo in cloud i tempi di elaborazione si abbattono notevolmente chiaramente con la possibilità diciamo di poter lanciare più scenari in maniera contemporanea quindi il consiglio potrebbe essere provare l'apertura delle finestre l'attivazione del rivelatore di fumo e così via con griglie grossolane con incendi di grandi dimensioni per avere subito la temperatura che rileva la sonda e così via dopo di che nel momento in cui ho definito in maniera corretta il mio layout andiamo a definire una griglia più fitta e lanciare il calcolo in cloud per definire una griglia più fitta non devo fare altro che andare nel menu disegno griglie in questo momento la griglia ha una dimensione di un metro gli dico ottimizza guarda io voglio mesh da 20 cm e automaticamente mi ha calcolato qual è la proporzione lo faccio per tutte le griglie e ho automaticamente una griglia più fitta e quindi un calcolo diciamo più preciso perché chiaramente gli oggetti vanno più e fitta la griglia meglio diciamo è mi sembra che ho risposto durante la allora per quanto riguarda il software un corso completo sicuramente ora il problema è che in questo periodo di covid non abbiamo organizzato corsi in aula e quindi possiamo farlo eventualmente in remoto chiaramente anche uno a uno chiaramente si fa in preventivo e si organizza il calcolo in cloud è già disponibile quindi è già in essere magari su questo aspetto potete chiedere informazioni ai commerciali che vi sapranno dire sicuramente le modalità per usufruire diciamo che se io in questo momento dalla maschera non avendo attivato il calcolo in cloud vado a lanciarlo mi viene posto dal programma una domanda che mi riporta al sito del nostro partner in cui c'è una pagina di registrazione dedicata ai clienti da Mirial che uno si registra i primi c'è la mi sembra che c'è una il il calcolo in cloud offre 300 ore di uso macchina gratuite quindi se volete vi potete proprio registrare e provarlo proprio diciamo direttamente vi posso garantire che non c'è paragone sul calcolo su una macchina in locale in ogni caso diciamo come potete vedere nella chat rivolgetevi ai commerciali che vi sapranno dare ogni qualunque tipologia di informazione per quanto riguarda i corsi quando passerà questa emergenza sicuramente riprenderemo i corsi in aula possiamo anche fare un corso in uno a uno anche di uso chiaramente normalmente un corso lo facciamo otto ore o due giorni quindi qui abbiamo fatto un'infarinata velocissima di quelle che sono le potenzialità del prodotto detto questo vi ringrazio per la vostra attenzione ci siamo prolungati tantissimo quindi ora mi arriveranno le tiratine di orecchie no no va benissimo scherzo scherzo però magari ne faremo altri e quindi magari andremo poi a focalizzare l'attenzione su determinati aspetti anche sulla parte sulle domande che avete fatto in generale magari approfondiremo qualche aspetto rispetto a un altro vi ringrazio per la vostra attenzione contattate chiaramente i nostri commerciali anche per informazioni per altre curiosità sul programma e vi risponderemo in tempi brevi grazie a tutti